Buonasera, benvenuti in questo nuovo episodio di Occulti, il podcast dove io e il mio cucchiaio microfono vi spieghiamo i drama del witch talk e di tutta la community witch in generale. In particolare oggi parleremo di Palo Santo e Salvia Bianca. So che alcune persone hanno detto online di non ascoltare chi parla di queste cose, di unfolloware e bloccare cose del genere, ma se non ascoltate anche l'altra parte non capirete mai di cosa si sta parlando, quindi per vostra cultura personale io vi invito a proseguire ovviamente. Durante questo discorso verranno portate avanti molte tesi e antitesi, anche opinioni e esperienze di popoli nativi tramite delle persone che sono riuscite a contattare o persone che si sono esposte a riguardo sui social, quindi non ci sarà solo la mia opinione che ovviamente emergerà durante il discorso come è logico che sia in un podcast umano o comunque in un video, ok? Però quello che proveremo a fare è confrontarci, darci delle opinioni e vedere cosa possa essere vero, cosa non possa essere vero e cosa invece ricada proprio nell'opinionismo personale, perché ci sono delle cose che sono fattuali e ci sono delle cose invece che vanno semplicemente nel campo dell'opinione di quel io penso, quindi io faccio. Fatto sta che come dicevamo nello scorso episodio di Occulti, ognuno è libero di fare ciò che vuole. Ogni cosa ha quindi una sua responsabilità e conseguenza, però nessuno può obbligarvi a fare qualcosa che non volete o a non fare qualcosa che volete fare invece. Queste sono le cose basilari da mettere in chiaro per questa puntata di Occulti sul Palo Santo e la sangue bianca. Tutto il resto ci concentreremo più che altro sul dividere quello che è successo, ok, e che si è stato detto, poi il campo ambientale e il campo etico della lavorazione e successivamente l'utilizzo proprio di queste due piante e del perché. Qualche giorno fa Zuzu, una creator qua su TikTok, ha creato per l'appunto un video in cui parlava di Palo Santo e perché non si dovrebbe utilizzare, dicendo che è cultural appropriation. In particolare il Palo Santo non è molto etico perché sfrutta il territorio nativo americano, così come la salvia bianca, ci dà questi elementi che nel business occidentale della spiritualità vanno tantissimo e vengono considerati dei propri must have per ogni persona che pratica magistra, segoneria o spiritualità in generale. Questa cosa quindi è molto problematica perché va a giocare sulla cultural appropriation che è un sistema, una relazione di potere fra una persona bianca ignorante sul tema che sfrutta e fa soldi su qualcosa di spiritualmente sacro a una popolazione nativa che quindi ha subito violenza dalla popolazione bianca sopraccitata. Fa per esempio questi discorsi qua e dice che ci sono tante erbe nostrane che possiamo utilizzare. Questi concetti vengono poi rimpresi e ampliati in una live di Lela Rosenthal che io amo, adoro, ho anche partecipato alla live non come speaker ma come commentatrice e è stata molto bella perché si sono toccati secondo me dei punti molto interessanti sul fatto che ci sta a non saperlo prima, alcune cose, basta mettersi nella posizione di voler ascoltare le persone native, recepire i loro messaggi e imparare quello che stanno dicendo, non posizionarci con prezza pochismo proprio con un prezza pochismo del e vabbè no io ho capito quello che vuoi dire perché molto spesso quello che ci manca è proprio il linguaggio per poter capire determinate dinamiche oltre che il contesto sociale corretto. Io due anni fa, no tre anni fa, marzo 2021, feci con Vic, il proprietario di Trifice Luna Shop, un altro shop di cristalli che è mio amico e non se lo collega, facciamo una live proprio su questo tema sulla cultural appropriation invitando una persona nativa ovvero Dan Sovoia Cash che potete trovare su Instagram. Lei oltre a fare una spiegazione molto bella su cosa sia la cultural appropriation spiego anche questa particolare cosa ovvero quando lei deve tradurre alcuni concetti della sua cultura in italiano mancano proprio dei termini e quando si trova a spiegare dei concetti alla platea perché lei è un'antropologa culturale si rende conto che la gente recepisce un po' quello che vuole in base alla sua socializzazione quindi quando spiega per esempio cosa siano i WAH si trova davanti persone che dicono ah quindi è il panteon tipo il panteon greco tipo questa divinità X, Y nella nostra concezione c'è molto il comparare le divinità e quindi dire Giove, Zeus, Thor, Odino e fare tutti questi parallelismi perché per noi è più facile assimilare un concetto se lo riportiamo alla nostra esperienza ma in questo caso la nostra esperienza è così lontana quasi opposta a quella delle culture native che invece sono oppresse dalla nostra cultura che non riusciamo totalmente a comprenderle e nel riportare la nostra visione perdiamo di valore ma anche di concetto di significato e quindi proprio questo cosa si ripercuote molto sulla nostra conoscenza dell'argomento un'altra ragazza a cui ho chiesto proprio informazioni per questa live dei chiarimenti che si chiama Shudevi ha detto che sua nonna parla più che altro spagnolo utilizzando dialetto incas quindi per me che sono una persona italiana che spiccica un po' di spagnolo sarebbe impossibile capire esattamente quello che dice e lei stessa ha problemi a capire quello che le dice sua nonna ogni tanto quindi come facciamo noi persone italiane a pensare di capire totalmente quello che vogliono dire e quindi poter sovrassare la loro opinione sul tema dobbiamo un attimo fare un passo indietro sederci metterci in posizione d'ascolto ascoltare le persone native quindi è anche un proprio un sistema di pensiero e di realizzazione dei concetti ciao amo che è molto diverso rispetto al nostro e che non riusciamo a comprendere appieno ed è un concetto fondamentale per il discorso di cultural appropriation perché io come vi dicevo prima la cultural appropriation è una dinamica di potere da una persona che fa parte di una cultura di oppressori e una persona che fa parte di un popolo di oppressi ok quindi su due spiagge opposte in realtà quello che noi andiamo a fare e che dovremmo fare è metterci in contatto siamo nel 2024 una popolazione globalizzata che per forza viene a contatto con altre realtà ed è giusto così perché solo apprezzando la cultura altrui siamo in grado di crescere trovarci un posto nel mondo ok quindi assolutamente importante studiarlo quello che cambia è proprio il concetto che noi ci facciamo e non va bene secondo me dobbiamo mettere un attimo in chiaro un'altra problematica prima perdonatemi il fattore ambientale palo santo e salvia bianca cosa sono? sono due piante che possiamo trovare sulla nostra terra la salvia in particolare in California e nell'area nativa americana di quei posti mentre il palo santo lo pensiamo di più in Ecuador in Peru comunque coltivato da generazioni da popolazione native di quel posto queste essendo specie presenti solo in un determinato territorio riferimento in riferimento a una cultura particolare sono considerate delle erbe sacre che per ora non ci interessa però vuol dire che nelle altre popolazioni non era molto in uso o non era ancora arrivato le americhe sono state scoperte tra virgolette nel 1492 da Colombo quindi prima noi non sapevamo cosa fossero i pomodori il mais il palo santo e la salvia bianca per l'appunto quando noi entriamo in contatto con queste piante è una dinamica oppressoria di conquistadores prendiamo queste piante all'inizio sono solo piante a un certo punto l'uomo bianco si rende conto che con una discussione di guardate i nativi americani cosa fanno con queste piante può rivenderle al popolo bianco europeo con una maggiorazione di denaro assurda sovrasfruttando la popolazione locale e il terreno per darci questo prodotto senza badare molto a cosa effettivamente potesse valere o significare all'interno della cultura di appartenenza quindi quando andiamo a considerare il discorso palo santo e salvia bianca prima di tutto consideriamo il valore ambientale noi ci prendiamo la responsabilità del sovrasfruttare una terra un territorio rendendolo più arido facendo una cultura intensiva a volte anche sfruttando popolazioni native che vengono sottopagate e messe in condizioni di lavoro assurde e estreme questo è un primo passo da dover considerare in secondo luogo come vi dicevo queste sono piante quindi se voi utilizzate il palo santo solo per aromaterapia o per magari dare una sensazione di affumicato al vostro cocktail perché è stato fatto anche l'esempio del bar in uno dei vari commenti per voi può finire anche qua cioè considerare il fatto che ci sia un trasporto tanto emissioni di gas e di co2 il fatto che ci sia una cultura intensiva non molto etica la cultura in generale anche per quanto riguarda lo sfruttamento dei lavoratori è buona se però parliamo dell'utilizzo spirituale di queste due piante aggiungiamo dei tasselli siccome noi abbiamo importato queste piante con uno scopo di lucro ci siamo persi la loro valenza all'interno delle società originarie sangia bianca e palo santo non sono semplicemente due erbe che vanno a purificare sono delle erbe che aiutano a entrare in contatto con il mondo sacro all'interno di specifici rituali al di fuori di quei rituali non è che abbia un grandissimo senso utilizzarle tipo per i nostri rituali che non c'entrano nulla con i loro rituali nativi inoltre c'è una grande disinformazione sul termine purificazione secondo me perché quando noi diciamo purificazione basta il primo significato che ci viene in mente è togliere le energie negative e lasciare solo quelle buone quando in realtà purificare dovrebbe essere utilizzato per lo più per dire neutralizzazione delle energie quindi non rimuovi solo quelle negative ma anche quelle positive per andare a creare un bilancio un'area zero da cui poter ricostruire mentre il palo santo e la salvia bianca non hanno esattamente questo scopo quello che loro vanno a fare e qui abbiamo la testimonianza diretta di dharma e di shudevi che fanno parte di popoli nativi che lo dicono non vengono usati per purificare e neutralizzare ma per creare uno spazio sacro uno spazio in cui poter ritualizzare nel pieno rispetto e in piena connessione con l'aldilà al di là è inteso come spiriti deifici, divinità, universo, energie universali e antenati non solo quindi neutralizzazione delle energie ma qualcosa di molto più sacro che noi ci stiamo perdendo e molto spesso infatti quando le persone parlano di certi argomenti voi potete notare subito se conoscono la sostanza per come si pongono e per quali termini utilizzano già prima vi dicevo che c'è un'impossibilità di spiegare in italiano determinati concetti perché non esistono le parole per tradurre in maniera legittima, omnicomprensiva determinati concetti ma se poi voi sentite parlare una persona di no il palo santo non è appropriazione culturale poi ci arriviamo anche a conversare su questa cosa qui perché vi sorprenderò forse ma una persona che prende la posizione del no si può utilizzare sempre io lo vendo di qua e di là vi dirà molto spesso che il palo santo è necessario nella vita di ogni strega per purificare perché viene utilizzato nei rituali scusatemi se adesso devo dire uno slur degli indiani d'america o degli indiani in generale vi dicono delle tribù indiane sono tutti termini che non sono ben visti dal popolo nativo americano e che dovrebbero essere proprio tolti dal nostro linguaggio in generale figuriamoci se andiamo a parlare della loro proprietà intellettuale e la loro spiritualità, la loro sacralità con le loro erbe sacre descrivendole in questo modo vi rendete conto proprio che la persona non conosce l'argomento oppure quando si parla di tarocchi molte persone dicono è la copiazione culturale allora anche non si dovrebbero nemmeno usare i tarocchi perché fanno parte della cultura scusate devo usare ancora di pallo slur per esemplificare quello che fanno dire per farci capire e dicono fanno parte della cultura zingara non si dice questo termine si utilizza popolo rom comunità rom popolazioni romani Roma people questi sono tutti termini giusti gli altri slur ovvero gli la g in inglese la z in italiano sono tutte terminologie che dovremmo evitare per rispetto delle altre persone neanche tanto per spiritualità di qua di là perché non dovrebbero essere utilizzate queste parole come la n-word ok? c'è sempre lo stesso discorso dietro quindi quando il concetto di cultural preparation palo santo e salvia bianca vengono approcciati da persone che utilizzano questi slur automaticamente tu sai che questa persona non conosce bene l'argomento e quindi l'opinione che può dare è viziata dalla società in cui è cresciuto perché non ha avuto il tempo e l'occasione forse di approfondire diceva scilia in quella famosa live di marzo 2021 che vi ho citato che ci sono due tipologie di persone che fanno questo ragionamento uno le persone ignoranti che non sanno di non sapere che sono solitamente quelle persone buone che quando tu spieghi un determinato concetto si rendono conto dello sbaglio o comunque ci ragionano sopra per capire meglio vanno a ricercare e poi ci sono le persone che sanno di non sapere e quindi si rendono conto di avere un'informazione superficiale iniziata dalla propria cultura del concetto ma non ne frega più di tanto perché possono fare quello che vogliono prendono il diritto di parola con il diritto di azione e marginano, tolgono, alienano la loro responsabilità sul tema nonostante comunque abbiano delle rilevanze nella nostra società e lo fanno lo stesso una di queste responsabilità che ci dovranno accollare come dicevo prima è quella ambientale dell'impoverimento di determinati habitat del trasporto che crea CO2 cose di questo tipo ogni tanto facciamo il discorso degli avocadi che arrivano dal Venezuela e poi però la salvia bianca e il palo santo ce lo facciamo importare direttamente dalla California o dal Peru capite che sono dei discorsi importanti da un punto di vista ambientale per il cambiamento climatico e non solo per la spiritualità di una persona in ogni caso continuando il discorso spirituale a noi mancano proprio i concetti, le basi, le informazioni il comprendere determinate strutture sociali che non è che noi dobbiamo dire ah ok allora io sono una persona bianca sono una persona europea ho un privilegio non potrò mai capire questo concetto quindi non lo studio assolutamente no è importante capirlo conoscerlo comprenderlo perché essendo nel 2024 una popolazione globalizzata un popolo scusate globalizzato quello terrestre è importante conoscerci è segno di rispetto di cultura personale e cultura in generale in maniera tale che ci si possa rapportare con il prossimo nel migliore dei modi questo qualcuno potrebbe dire che sia un ragionamento da accademico e che una vera strega in realtà se ne infischia perché il potere viene da dentro e quindi non si deve imporre delle regole io non sono onestamente dello stesso pensiero perché anche nelle varie grandi scuole di esoterismo e di stregoneria passata ci sono sempre state dei regolamenti pensiamo ad esempio il passaggio di poteri che ci sono all'interno della stregoneria italiana personalmente in Sardegna i poteri non vengono passati in un giorno qualsiasi a meno che non ci sia un'emergenza ma il potere di solito viene passato nelle notti di Pasqua o di Natale o ancora nelle notti di luna piena nel caso non si possa aspettare nell'una o nell'altra festività se proprio c'è un'emergenza del tipo che ti rendi conto che sono le tue ultime ore puoi farlo anche quella notte lì ma non è consigliato c'è l'obbligo di riservatezza di segretezza perché altrimenti si perdono i poteri esistono le streghe per l'appunto le streghe che furano che rubano il potere proprio perché siccome viene rotto il sigillo di segretezza questa conoscenza a legge nell'aria può essere rubata e quindi esiste la strega che fura che ruba quindi non dobbiamo pensare a compartimenti stagni ok secondo me un accademico può essere anche una persona che pratica stregoneria che pratica magia una volta sì c'erano le differenze fra mago e strega nel senso di mago è chi nasce senza poteri magici che vengono tramandati senza una famiglia di streghe quindi impara a praticare magia ma non ha la legittimità tradizionale mentre una strega è chi ha la legittimità tradizionale e il potere ce l'ha da dentro da sempre quindi come vedete anche nella definizione storica delle due etichette perlomeno italiana della folk magic non c'è un è mago solo chi studia e la strega può anche non studiare è ovvio che nel 2024 ripeto siccome noi abbiamo accesso ai libri e alla cultura di base perché c'è il diritto alla cultura dovremmo farcene una personale conoscere gli argomenti e poi farci un'opinione qualsiasi essa sia ripeto non avete un obbligo di pensarla come me come ciccio pastrugno come giampulo potete farvi la vostra opinione personale e agire di conseguenza ma è importante informarsi e se io sento una persona parlare di questi argomenti dare un'opinione ok e dei consigli di molto forti come per esempio non seguite chi parla di appropriazione culturale perché fa ridere e poi utilizza dei termini come per esempio gli slur o dice che il palo santo purifica quando non è questa la sua funzione nativa ti vengono dei dubbi non tanto sulla persona in sé ma sulla sua preparazione sul tema in particolare ok questa è una cosa molto importante secondo me da sottolineare ed è quello che manca nelle discussioni del witch talk per quanto riguarda queste due erbe perché viene sempre detto una appropriazione culturale quindi non si può mangiare la pizza perché il pomodoro è stato importato dalle americhe quando sì si potrebbe parlare di questa cosa qui ma non ha senso a livello di cucina perché non stai andando a calpestare la spiritualità di nessuno per i tuoi comodi i tarocchi senza sapere che i tarocchi sono italiani ma anche se non lo fossero hanno una struttura cristiana che poi è stata rielaborata in ambito esoterico quindi è stata ampliata che non sappiamo da dove abbiano origine effettivamente i tarocchi sappiamo solo che i primi documenti sono italiani ad esempio altri esempi che vengono fatti è allora non posso più usare il palo santo per i miei drink vi ho detto quando non è quello il discorso noi stiamo parlando di spiritualità anche se utilizzi per i tuoi drink fai un discorso ambientale che vi dicevo prima ma fuori dai drink facciamoci un altro ragionamento spirituale cioè non esiste solo uno o l'altro bisogna andare a contestualizzare i nostri ragionamenti per farci un'opinione e dare un'opinione sempre un altro punto importante che io voglio toccare è il fatto è un misto tra ambientale ed etica confrontandoci con Dharma e con Shudevi abbiamo parlato anche dei periodi balsamici e di raccolta di salvia bianca e palo santo io parlo di palo santo visto che il drama è riguardante a quello però si è parlato anche di altro il palo santo in particolare sono pezzetti ecco ti amo sono pezzi di legno che vengono raccolti da un albero questo albero però non è giovane è nelle fasi finali della sua vita perché nelle fasi finali della sua vita l'albero assume un valore di anziano così come nella cultura italiana faccio un parallelismo ma come avete capito i parallelismi non sono sempre buonissimi come nella cultura italiana noi abbiamo rispetto per gli anziani perché sono dei saggi allo stesso modo l'albero sembra un saggio ai nostri occhi o meglio a quelli dei nativi che quindi con molta riverenza estraggono i paletti di palo santo e li utilizzano nei rituali per sacralizzare il loro spazio e creare un collegamento con l'aldilà inteso come spiriti deifici, divinità, antenati, universo, energia in generale quando noi però parliamo di una cultura intensiva come quella che è presente online o comunque sul territorio occidentale per star dietro al fabbisogno e alla richiesta ossessiva di questi elementi non possiamo aspettare il periodo balsamico delle erbe quindi per esempio raccogliere una determinata erba in un determinato mese perché ha più oli essenziali e quindi abbiamo una lavanda magari che profuma molto di meno di una lavanda per cui viene seguito il ciclo vitale e il periodo balsamico e se non possiamo aspettare il periodo balsamico figurate se possiamo aspettare che un albero nasca, cresca e a momenti muoia e anche questo è un problema perché per i rituali nativi è importante che ci sia questo aspetto e infatti Shudevi mi diceva è una cosa in pratica che facciamo solo noi nativi tutto il resto del commercio non ci guarda molto perché uno, non lo sa magari due, non può starci dietro temporalmente sarebbe assurdo poter esaudire tutte le richieste di mercato considerando questo perché non ci vuole un anno non ci vogliono due anni ci vuole almeno un decennio per avere una pianta del genere una quindi secondo me è una cosa un'altra cosa da tenere in considerazione che poi noi ci fissiamo magari ogni tanto su delle piante di oltraceono che quindi devono essere raccolte in maniera etica da persone che stanno lavorando in maniera etica con tanta sapienza cioè conoscere la cultura altrui e il modo di utilizzo farlo arrivare fino a noi con i trasporti tutte le spese energetiche e quant'altro quando in realtà noi avremmo tantissime piante nostrane che hanno che fanno un lavoro simile o che comunque purificano ok? Cedevi mi diceva una cosa interessante però lei dice io da una persona nativa di famiglia nativa mi fa piacere quando le persone acquistano con coscienza quello che noi andiamo a produrre e vendere perché è sintomo di rispetto se le persone dicessero in generale no basta salvia bianca e fallo santo noi come campiamo? cioè come prendiamo i soldi? è un commercio quindi se fatto in maniera etica perché io persona nativa non posso venderlo a te Roberta che sei una persona bianca e devo per forza venderlo alle persone che hanno la mia stessa cultura capite che il bacino di utenza è molto molto ridotto e quindi è anche un po' irrispettoso verso il lavoro nativo però presuppone una coscienza un rispetto e un'eticità da tutti i punti farela pagare 2.000 euro a Ramette vedrai come passa la voglia di utilizzarlo Shane che lo vende a 3 euro un bastoncino che dire quindi noi se non vogliamo non prenderci questa responsabilità raga perché secondo me è sbagliato questo ma se ci vogliamo connettere meglio alle nostre energie locali e di sangue perché comunque noi discendiamo da una famiglia italiana immagino le persone che mi stanno ascoltando in italiano ma non sempre le persone non diamo per scontato potremmo prendere delle piante nostrane come per esempio il rosmarino che ha funzione purificatrice e protettrice la salvia ufficinale che ha funzioni purificatrici la lavanda che ha proprietà purificatrici oppure se volete proprio il legnetto non esistono solo le erbe esistono anche i legni il pino, il cedro sono solo due degli esempi che noi possiamo fare che possiamo integrare per avere un collegamento diretto con la nostra terra la nostra famiglia il nostro sangue la nostra eredità non c'è bisogno di andare a prendere dall'altra parte del globo un'erba con tutte le complicazioni del caso perché noi adesso stiamo prendendo in considerazione un caso molto particolare in cui c'è uno sfruttamento c'è una poca conoscenza un poco rispetto se invece noi facessimo tutto questo con rispetto conoscenza e coscienza andrebbe bene raga ed è quello di cui parlavo con Shudevi due mondi diversi il rispetto e lo scopo di lucro se non ci fosse lo scopo di lucro se ci informassimo bene su tutte le questioni conosciassimo bene l'utilizzo del palo santo ovviamente permettendo un linguaggio un vocabolario inclusivo che possa permettere una diretta traduzione dei concetti utile alla nostra comprensione farebbe bene poi ovviamente c'è tutto il discorso ambientale che vi dicevo del territorio del terreno si parlava ieri anche di via distinzione ma questo onestamente ci sono articoli discordanti quindi non ne parlerei molto apertamente vi invito a approfondire individualmente il tema però è importante fare questo disclaimer cioè non si può dare un no secco o un sì secco bisogna sempre contestualizzare capire e soprattutto lasciar parlare le persone negative io adesso vi sto parlando perché questo è il mio canale ma ho fatto molta attenzione a dire non dico solo la mia opinione vado a chiedere a persone native cosa dicono cosa pensano ed espongo anche il loro pensiero perché è una cosa fondamentale ma infatti ci sono nativi che vivono in questi commerci ma lì un altro discorso concordo infatti Shedevi faceva proprio questo esempio certe persone native della mia comunità ci vivono di questa cosa negarla sarebbe irrispettoso nei loro confronti e vorrebbe dire tagliarli le gambe ok in maniera figurata quindi un'altra violenza nei loro confronti bisognerebbe chiudere il commercio superficiale chiudere la cultura intensiva e aprire delle strade commerciali etico sostenibili commercio ecosolidale con le persone native che fanno di lavoro questa cosa qui che seguono in rispetto delle loro credenze e dell'ambiente tutto per poterci dare un prodotto che abbia la valenza spirituale giusta oltre che etica sociale e ambientale e in questo modo saremmo persone più rispettose e che sono in grado di capire che nel 2024 il mondo è globalizzato ma questo non vuol dire prendiamo tutto e qualsiasi cosa in barba alle altre persone ma approcciamoci alle altre persone in maniera rispettosa ascoltandole facendo proprio i concetti in maniera intelligente secondo me Palo Santo e Salvia Bianca sono un po' come il fast fashion della spiritualità e del witch talk in particolare perché non riusciamo a saper analizzare il contesto e lo vediamo spammatissimo in giro senza realizzare che forse c'è molto di più di quello che ci viene detto sui social ah l'ultima cosa che ci viene da dire è quindi il Palo Santo e la Salvia Bianca sono appropriazione culturale? siccome l'appropriazione culturale è un rapporto di potere fra oppressore e oppresso in cui manca il rispetto, la conoscenza e la coscienza è appropriazione culturale solo se appunto non vengono rispettate le condizioni etiche di base ma di per sé Palo Santo e Salvia Bianca e il loro utilizzo non lo sono se fatti in maniera etica e coscienziosa e con conoscenza Ciudevi, ripeto, persona nativa non purifichi con il Palo Santo diciamolo forte e chiaro mic drop mic drop proprio la persona che ha studiato antropologia a livello universitario ha fatto un bellissimo discorso chiaro e soprattutto dando importanza alle persone native e raccontando di color grazie mille devo dire che non è tutta farina del mio sacco nel senso che come dicevo all'inizio della live queste cose vengono sia dal confronto con le persone native di vario tipo Dharma, Shudevi e Kaj sia dal fatto che alcuni concetti li avevamo già affrontati in una vecchia live che se volete mi iscrivete su Telegram vi mando di Kaj proprio che è Denso Voyage su Instagram e lei è un'antropologa culturale oltre che una persona afrodiscendente che è iniziata all'udu e al pantheon chemetico e al culto chemetico per esempio quindi sono persone effettivamente del campo quindi non è un caso che tu citi antropologia è proprio una persona che ha fatto questo discorso con noi per portare avanti questa sensibilizzazione sia antropologa culturale non fa ridere secondo me parlare di rispetto certo che sui social questo argomento è over spammato spesso fatto nei modi peggiori e con toni veramente pesanti ok nonostante questo secondo me è importante parlare di sensibilizzazione perché se non si viene mai a contatto con determinate realtà e non si ha la possibilità di magari chiedere a persone native la loro opinione anche solo una persona non nativa non legittimata ne parla però riportando le loro informazioni può essere importante per andare a crescere per l'appunto credo che una persona che è su un cammino spirituale come per esempio quello della magia o della stregoneria voglia crescere spiritualmente elevarsi in un certo senso rispettando il prossimo e rispettare lo si può fare solo se si conosce questa è la mia opinione personale ripeto peccato cioè è veramente un peccato perché si potevano fare tanti discorsi belli su questa cosa qui invece i social sono sempre un po' un dico faccio frecciatina di qua e di là senza poi parlare effettivamente e dare la parola alle persone che ne hanno bisogno che se lo meritano che sono legittimate a dirle determinate parole snaturando completamente il focus del discorso che dovrebbe essere il rispetto per le altre persone per le altre culture per le altre etnie e non il io so meglio di te faccio una frecciatina sia da una parte che dall'altra perché io avendo seguito due sbagliate live ci sono fatte frecciatine da una parte dall'altra alcune più cattive di altre ok non lo voglio negare mi dispiace che sui social venga banalizzato fino a questo punto che è un discorso così importante come per l'appunto il rispetto delle altre persone e una possibile problematica sociale etica come a cultural appropriation venga trattata come invece l'arco e frecce essere strega non significa andare d'amore d'accordo con le altre persone punto secondo me è fondamentale cioè la definizione di strega non dice cosa sia bene cosa sia male dice semplicemente che tu pratichi magia nel senso più di tradizionalista che tu abbia ereditato la pratica magica da un membro della tua famiglia una cosa di base che si dice fra le persone che praticano è che dovremmo fare le cose per nostro conto per star bene noi ma creare anche una società funzionale felice infatti la stregoneria del medioevo non nasceva dalla lussuria dal narcisismo o dalle nostre mire espansionistiche nascevano per rispondere alle esigenze del popolo che non veniva ascoltato dai poteri forti fa ridere un po' dire poteri forti ma è molto vero nasceva perché il contadino non aveva abbastanza soldi per curare i propri figli e quindi chiamava una masca magari e la masca andava a curare i figli con la medicina popolare la stregoneria in questo caso nasce dalla necessità del popolo per far star bene le persone quindi anche ricalcando questo concetto una persona nel 2024 dovrebbe praticare per se stesso ok? per star bene per amarsi ma in rispetto delle altre persone per migliorare il mondo a mio personalissimo avviso quindi cosa c'è di meglio dell'amare il prossimo se non conoscendolo e rispettandolo? esatto dovremmo ricordarceli di più queste parole mi dispiace quando sento assolutamente della community same cioè il drama ormai è all'ordine del giorno e mi dispiace tantissimo credo che il drama abbia in sé la potenzialità di mettere in discussione la nostra società e poter crescere collettivamente ma se il drama viene fatto solo per i numeri decade è intrattenimento non è crescita personale un'altra cosa che manca molto nei discorsi occidentali la differenza tra chiuso e aperto si vede al viso e dalle smarche che vai con il volto non sono da strega effettivamente una strega deve avere il nasone ok? deve avere un brufolo si deve porre in una determinata maniera perché la definizione di strega è estetica e non è iniziatica e puzzare no, a parte gli scherzi la definizione di strega come dicevo prima cambia dal contesto quindi se la andiamo a contestualizzare per esempio da un punto di vista di stregoneria folca tradizionale italica la strega è chi nasce in una famiglia di streghe e ottiene per tradizione iniziazione il passaggio del dono che poi non è davvero dono il termine corretto si dovrebbe parlare di potere da noi si chiamano brebus ok? che sono le parole sacre a contrapposizione a mago che chi non ha un'iniziazione un sangue magico ma impara queste cose sui libri e le va a praticare con conoscenza rispetto ma non con sangue ok? in altri contesti strega vuol dire tutt'altro per esempio in contesto cristiano strega è chi pratica l'arte del diavolo per esempio nelle correnti più new age americane strega è chi pratica magia e non stregoneria nel particolare se il fatto che sia eclettica secondo me invece si può aprire un bellissimo discorso perché quando si è nel 2024 secondo me si viene a conoscenza di tante cose come dicevo è importante secondo me studiare quindi per esempio nella mia pratica tradizionale che è quella sarda da noi si utilizzano i cristalli ma ci sono dei cristalli ovviamente che non sono reperibili sul suolo sardo così come non sono reperibili in generale sul suolo italico pensiamo alla moldabite ad esempio no? che è specifica in Italia non si può trovare quando siamo in un mondo globalizzato come il 2024 la pratica dei cristalli fa parte della sua corrente ma non è omniconclusiva perché non c'era sul tuo territorio tu vuoi andare magari ad includere anche quei cristalli che non sono italiani ok? e secondo me la conoscenza li fa portare lì al stesso momento tu non hai più solo il concetto tradizionale e quindi includi dell'eclettismo nella tua pratica però in questo caso l'evoluzione del pensiero per includere delle nuove informazioni prima non reperibili è considerato eclettismo o semplicemente un'evoluzione naturale del credo e della pratica? secondo me è una cosa molto interessante perché quando la stregoneria tradizionale ha subito la cristianizzazione per sopravvivenza noi non l'abbiamo considerata eclettica noi l'abbiamo considerata sincretica e abbiamo dato origine alla magia folk italiana secondo me è una cosa particolare poi si vede molto la parola eclettica come qualcosa di negativo credo che l'eclettismo possa essere anche una modernizzazione in base alla conoscenza l'ampliamento delle proprie conoscenze nel rispetto della pratica altrui sapendo da dove arrivai come poterla integrare in maniera rispettosa che non è sempre possibile mettiamo le mani avanti però dove è possibile ci sta avete qualcosa da aggiungere raga? così chiudiamo che sono veramente stanca sono passate un'ora e quaranta ci siamo parlati tante cose dell'impatto ambientale del palo santo della salvia bianca oltre ovviamente aver parlato del drama quindi del video di Zuzu della live di Lela delle risposte non troppo cordiali che sono state fatte sia in risposta diretta tramite commento a questi due contenuti sia proprio di risposte video mi ha parlato dicevo del contenuto ambientale l'impatto ambientale dell'impatto etico del lavoro fatto per prendere determinate cose quindi aspettare non solo il periodo balsamico ma proprio il periodo finale di vita dell'albero per poterlo raccogliere con la sacralità e la legittimità giusta l'utilizzo dei popoli nativi come viene concepito dal popolo europeo in generale dicendo che è purificazione quando non è questo c'è tanta disinformazione a riguardo che ci si può accorgere quando la persona non sa di cosa sta parlando perché uno ti dice che il palo santo purifica in maniera molto base base anche se ha la possibilità di argomentare oltre due utilizzare gli slur abbiamo fatto una parentesi sugli slur e lo so dire determinate culture non solo quella nativa abbiamo parlato di come è possibile approcciare queste due piante in maniera rispettosa cosciente e conoscente anche perché che è nativa diceva il commercio deve essere supportato se ecosolidale e in contatto diretto con le popolazioni native non vanno supportati i rivenditori agli ingrosso che se ne fregano completamente delle conoscenze native di come viene raccolto l'albero sia nel senso di ciclo vitale che quindi bisogna aspettare la sacralità sia nel senso proprio di sovra di cultura estensiva che impoverisce le terre della spesa di CO2 di tantissimi aerei solo perché devi vendere su Shein a 5 euro il tuo palettino tante cose e poi abbiamo parlato in generale di cultural adaptation del fatto che sia una relazione di potere che quindi non si applica sempre in maniera decisa sì e no ma che dipenda dal contesto della conoscenza di base dell'argomento belli argomenti complimenti grazie mille poi detto da una persona nativa mi fa ancora più piacere perché vuol dire che effettivamente l'ho portati magari nel modo in cui volevo farlo io ovvero col rispetto e portando avanti la vostra voce quello che pensate non solo in base alla mia ottica europea come dicevamo inizio live anche perché noi europei spesso non abbiamo proprio il vocabolario adatto per comprendere determinati concetti figuriamo esporli al pubblico perché manca la traduzione ed è una problematica che tante persone native e estere si trovano a dover affrontare per spiegare a noi magari delle cose che troviamo curiose o qualcosa che vorremmo sapere e quindi non è scontato dire nel 2024 che sebbene ci sia la globalizzazione non c'è terreno fertile per poterla fare in maniera rispettosa proprio perché non ci sono gli strumenti e neanche la volontà perché se non ci sono gli strumenti che è causa di una società che non è pronta al cambiamento e non si mette nella posizione di poter creare concetti e etichette che rappresentino concetti le parole grazie mille per questa compagnia su Occulti il podcast esoterico che segue il drama del witch talk e tutta la comunità witch in generale spero che l'argomento sia chiaro in generale vi invito a contattarmi per eventuali chiarimenti o link a fonti che ho citato per il resto grazie mille ci rivediamo in un prossimo episodio ciao ciao